mi fai un attimo una foto veloce? ok fatta fa vedere? allora com'è? ma oddio è un pochino sfocato è poco poco guarda me la rifai per favore va bene ecco ma che è sto schifo? ma scusa non ti piace? ma come fai a fare foto così penose? stai fermo devi stare solo fermo e farmi una foto oh che palle ora ma non sono nemmeno io ma come hai fatto a fare una foto? cioè non sono nemmeno io ma che ne so fra io non ne so fare le foto adesso ti ammazzo io ti ammazzo